Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Call of Duty Modern Warfare. Oggi andremo a vedere ben 4 partite che ho vinto 6 a 1 con il mio socio Olmar Melu. Le prime due partite saranno nella mappa heal, successivamente una partita in king e una in gulag shower. Se vi è piaciuto il video vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. Alla prossima! Soprattutto io. C'è stata anche solo Rust 1v1 eh. Io vado centrale così provo a spottare quello adesso. 1v1 non mi piace niente. Uno fatto. Uno è qua, è a sinistra e mezzo. Adesso torna alla sua base a sinistra. Ah ne, si era nascosto proprio. Ah che smirata che gli ho tirato. L'ho visto ma non l'ho preso. E' a fiel messo. Ah mi ha ucciso come un pollo eh. Occhio che uno va in mezzo eh. Io vado sullo sinistro ancora. Cioè mi metto qui in hand glitch e non vado a sinistra. Ho preso uno con la flashback. Ok, io uno lo vedo eh. Aspetta. L'ho hittato mica male. Provo a tirargli una granata. Uno l'ho hittato. Ok, uno l'ho fatto con la granata. Una l'ha. Ah, ho visto bravo. Che smirata. Ah lì, io pensavo di là. L'ha in fondo. Difatti gli dicevo qui come è in alto. È a corso. Diagonale. Eh però se mi dici là io non capisco dove c'è. Guardo proprio. A me uno mi ha pushato eh. Mi ha pushato malissimo. E uno è sulla sinistra ma non so dirti dove. No perché? Pronti? Vabbè con tutto quello che li ho infilitto però ragazzi. Ma cosa? Ma cosa ti ha preso? Ma ho preso l'arma? Non è l'ultimo. Eh si vede che è esplosa. Io non vado a sinistra eh. Io vado in centro e non vado a sinistra. Ok, occhio a sinistra perché. Sì sì, guardo a sinistra ma non vado a sinistra. Uno fatto. Ok, uno è tutto a sinistra eh. Fatto. Bene così, sotto con il prossimo. Ho visto che ha lanciato la molotov. Io devo giocare così perché se vado lì non lo vedo. Questo qui vestito di nero. Si mettono opposto a quel vestito lì. Sinceramente io non lo faccio perché. Anche adesso io non vado, non vado su io eh. Te lo dico subito. Uno è là a sinistra. Dato. Adesso va immerso il mezzo. Ok, uno l'ho visto. Gli ho dato un colpettino. Uno lì. Preso. E uno in mezzo. Mezzo a sinistra. Quindi da te? Sono quasi morto. Sì, da me. Io giro. È nella mia spuna a sinistra. Dieci secondi. Eh, sono un solo andato. Dai figli, ti ho tirato due headshot. Obiettivo attivo, deve essere no. Siamo all'obiettivo. Attendere. Due vittorie di fila. Tenetevi sotto pressione. Quindi quando era là in edglici poteva uccidermi. Perfetto una smirata. Potevo ucciderlo anch'io. Ne ho bisogno di dato due colpi. Se fossero entrati almeno. Visto dietro la colonna. È il tuo di destra. Mi spara. Uno è là. Una a sinistra e a te. Uno a sinistra mi ha fatto. Però si sono invertiti. Quindi sono tutti e due. È uno in mezzo e uno a sinistra. Dietro ecco. Ok, uno l'ha visto in fondo. Via, prendete l'obiettivo. Sulla bandiera, sulla bandiera. Dai, dai. E' rincastrato nell'albero. Sulla bandiera, Michael, ti scontro l'albero. Ti metti a segare via l'albero prima di... Mi sono rincastrato. Round decisivo. Dategli il colpo di grazia. Vai in centro, non a sinistra. No, no, vai in centro. È meglio. Anche io provo a prendere il tuo di sinistra. Ok, l'ho visto, è a sinistra. È uno qui a destra. Ok, fatto. Dove? Oh, è diventato. È il mio spawn. Fatto. Au. Ush. Perché pensavo fosse la flashbang, invece era il fumo. Eh, difatti il tuo, questo che ti ha ucciso, potevo farlo subito, però si ha messo il fumo. Non lo vedevo più. Può essere. Scontro. Per vincere, eliminate tutti i nemici o catturate la bandiera dei supplementari. Provo a andare a destra, io. È anche lento, come la fame. Io sto a sinistra, io. No, è più veloce dall'X50. Non c'è, abbiamo il bison, però. Più veloce dall'X50 questo, Mike. Dobbiamo vedere se abbiamo concentrazione o meno. Io ho fatto. Io ho hittato a sinistra, in centro-sinistra, perché l'ho hittato con la flashbang. Non so dove è. Ah, ho visto. Ah, è nella casa, ho visto. Dove? Eh, è giù nella casa in fondo. Brava. Sì, al prossimo. Occhio che uno si mette là in head glitch, eh. Stai un po' più centrale, magari. È un po' più comodo. Come ho visto... Eh, sì, è mortissimo. Resti solo tu, la squadra conta su di te. Io avevo tre di vita. Dieci secondi. Ah, ce l'hai dato, bravo. Ecco lui. Due vittorie di fila, teneteli sotto pressione. Eh, non ero sicuro se era una foglia che cadeva così... ...o cosa. E non mi vedeva. Diamoci da fare. Scarf. Ma come fai a... ...a equipaggiare? Io non mi muovo, eh. Sto qui in fondo. Così se mi viene là, lo faccio subito. A destra per ora non vedo nessuno. Né anch'io a sinistra. Provo a lanciare... ...una flashbang. Ok. Uno l'ho hitato a destra. Dieci secondi. Io a destra, tu non vedo nessuno. Pare provare ad andare un po' più in mezzo. Sì, Mike è qua davanti a me, fatto, uno. Un giro nell'altro. Io sono qui vicino alla bandiera. Uno è qui, è da me. L'ho visto? Fatto. Tre round di fila vinti. Continuate così. Non mi muovo, come questo? No, questo qui... Ho sentito il volume. Il volume, i passi. All'itratura io. Beh, io ti spotto se c'è qualcuno, subito. Ok. Ce n'è uno in... È lontano, lontano. Fatto. E uno è qui a sinistra. In fondo a sinistra. 19 di vita. Io tiro una flashbang. Preso. Io tiro una semtex. E qui è... Si è avvicinato a me, mi sa. Dietro il sasso... Centrale. Sì, è qua. Fatto. Quattro vittorie consecutive. Su, arriviamoci. Non so, visto che te arrivi lì, non so dove è passato, sinceramente. Adesso tu sarà dietro il sasso, corso. Eh, era dietro quel sassolino lì a destra, in parte al ponticello, no? Gli vado a destra. Ti rimango sotto la cosa qui, eh. Non c'è da flash. Osti, mi ha rasato. È in edifice a destra, classico. Non puoi morire, grazie. Vai. Mi sono forse a destra. No, dove c***o ti ha sparato, scusa. Ah, no. Era in centro. Centro a destra. Eh, qui. Si mette in head glitch, non andarci. Andiamo più centrali. Mi sdraio qua. Oh, sdraiati! Ok, visto uno. Fatto. Quale, destra? Sinistra. Ma ha visto anche uno. Il round è nostro. Pronti al prossimo. Io l'ho sdraiato proprio in mezzo. No, il pompo. Io vado dietro la torre. Prova a spottarmi se c'è qualcuno. Vai, vado di flashbang. Sì, ne ho beccato uno con la flashbang. Gli ho fatto... Anche dalla mia parte. Sovrebbe essere là, secondo me. Dato? Ok, ho visto dov'è. Ok, uno fatto. Dove? No, 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 non ci credo. Non l'ho preso. Dov'è? Arriva verso di te. Esatto, lì. Mangia il mio cannone. Una vittoria meritata. È assurdo il mio corpo, diciamo. Ho preso quella bomba. In inglese che ti parla. E lì è anche più divertente parlare con qualcuno. Perché in sei non si capisce bene. Con chi parli, chi no. Eh, c'ho la creepy. Non sponpilo. Io vedo come è lui. Cioè, esco a sinistra e vedo dove va. Se posso ucciderlo, lo uccido. Se no, vedo solo dove va. Sì, sì, anch'io esco a sinistra. Non salgo su su. Ok. Ma perché io quest'arma muoio sempre? Fidomi, imparare proprio a non uscire a me. Oh my god. Rimanevi lì mezzo secondo. Io l'ho hittato, eh, l'altro. Ah no, allora ho hittato quello che hai ucciso a te. Brava. Sì, vabbè. Sotto con il prossimo round. Cato cazzo mi sparava questo. E' come quello che ho ucciso io prima, scusa. Come l'ho visto, ho iniziato a sparare, finché lui non si è alzato e è morto. Io me ne vado da qui. Pravo sponchillare io. No, io no, non ce la faccio. Uno è entrato dentro nel container a destra. Uno è giù in fondo, io ho tirato uno semtex. Ok, io sconchillo. Non lo veo. L'ho ucciso io. Non riuscivo con la MG lì, non riesco a usarla, fin. Cioè, riesco a ucciderli, ma così all'inizio mi fanno sempre. Oh, carabine. Ok, lei mira bene. E' un bel mirino. Ma... Io non ho nessuno qua a sinistra. Non so se è salito al centro o cosa. La tenendo tutti e due, ma non lo veo. Penso siano tutti e due da te. Uno qua a destra da me. Dove? Ok. Uno dentro nel container, fatto. Ush. Questa è una fortuna, mi ha fatto hitmarker, questo, fin. Anche a me uno, eh. Non so come cazzo a fare. Ci sarà incazzato nero, qui, come cazzo. Stai fare hitmarker da lì. Eh, vada, ma se mi spari alle sinocchia, fin. Eh, però. Uno hittato in testa. Oh, ma guarda questo, fin. No, io ho fatto hitmarker. Hitmarker ha uno. Mi sono mortissimo, eh. Ah, c'hai la siringa. Ma ecco, curati, curati con la siringa. Ah, già. Ah, ecco perché non è morto. Uno l'ho preso con la termite, mi sa. Ma non l'ho preso. Ma, ma se stavo guardando di là, come ha fatto a uccidermi con la termite di qua. Ma cos'è? Bene. Non mangiando la m***a. Trova a sponchillare. Io sì, io salgo sopra e mi posiziono, fi. Fittato tipo quattro volte. Oh, figli, se non... Dove è? In fondo. Usccio. È in mezzo, era. Arriva dietro di te, Mike. Mi sa. Bravo. Siamo in vantaggio. Questa era bella da fare 6-0, ne ho già fatti 5 kill. Questa 6-0 non era male. Quella carabina lì di m***a. Ho fatto 3 hit marker, figli, ma sarà possibile? Sì, anche io, eh. E mi sa che si sono curati. E poi domani, fì, hit marker, hit marker. Preso. Vediamo. 50 di vita. Ok, il mio è qua davanti. Uno è sotto le scale, eh, Mike. Fii, che fatica, prendi. Io spuscio in mezzo, vai. Due round di Fii la vinti. Non fateli respirare. E via. Cazzo, una col cecchino ci staremmo. Un altro round. Distruggeteli. No, per calciocchino, Michael. Quando puoi giocare con la... Con la magno. Io puscio perché intanto non sono capace, quindi... Fii, questo qui sta bestemmiando in cinese, Michael. Uno è sotto le scale. Oh, no, è da qua, è bene nel container. Hitato. Penso di aver ucciso nel container lì. No. Dietro. 10 secondi. Fii. Oh, oh, oh. Precaviglie. Non ho aspettato altro. Di cazzo, io ho talto 80 di... Di anni, non è con una... Con il ginocchio. E se non moriva per il colpo di pistola, moriva per la testata. Oh, cura, ciao, eh no. Ci alleniamo per i prossimi tornei, Michael. Per picciare, eliminate tutti i nemici o catturate la bandiera dei supplementari. Io ve lo a destra. Eh, anch'io. Cioè, sto qua. Tino, mi sporgo. Sì, sì, anch'io. Avanziamo, forza! Nessuno a sinistra. Uno centrale e destra. Ecco. Cioè, dai. Sono tutti e due a destra, uno davanti a te. Bravo, e uno era giù in fondo. Gli ho dato solo un colpettino. C'ha 75 di vita. Ah, che colpo? Un po' mai che sei in fondo, tira. Bravo. Perfetto! Vi voglio così anche nel prossimo round! Ho sentito i passi. Sì, no, è per quello. Viene a pusharmi così. Ho smesso di parlare per quello, anch'io, perché ho sentito il passettino. Ah, mi guardo in mezzo, allora. Beh, io guardo a destra. Sì, in mezzo ce n'è uno, intato. Adesso è andato verso la tua. Da me a sinistra c'è uno. Uno fatto. Mi lancia la molotov, mi ha ucciso con la molotov in mezzo a sinistra. Boom! Sì, no, l'avevo visto. Tenetevi sotto pressione. L'ho intato, ancora l'ho visto. L'ho visto, però. Ho spaccato la faccia, hai visto? Strabello, figlio. Io vado alla destra, eh. Vado in mezzo ancora. Destra nessuno. Dato quello in mezzo, sinistra. Era in mezzo a destra. Sono tutti e due a destra, eh? Uno è andato a sinistra, uno è qui. Osti, abbiamo solo i pugni. Uno è qui da noi, Mike. Fatto. E uno era giù in fondo a sinistra. Giù in fondo e in mezzo. L'ho hittato ancora una volta. Visto? Vado. Eh, dai che è buono, dai che è buono. Guarda che gli attivi, ho visto che sono italiani. Eh, no, che magari ti sentono, magari ogni tanto. Vai, anch'io in mezzo. Ok, hittato. Io, sinistra, verso la tua. Fatto. A destra arriva uno in verso il centro, verso di noi. Visto. Fatto. Quattro vittorie consecutive. Su, arriviamo a cinque. Avanziamo, forza. Sempre in mezzo. Eh, vai. Ah, no. Cioè, neanche un colpo è entrato, né? Vai, hai tolto 40 minuti. Ah. Il prossimo round. L'ho anche abbassato. Eh, perché ti ha fatto headshot? Se no, non aveva senso come cosa. Sì, effettivamente abbiamo usato delle armi di merda, eh. Rasato uno. L'altro è in mezzo, eh. Viene verso me. Non lo vedo il mio. L'altro è qua, la mezza. Vabbè, fatto. Non abbassate la guardia. Tra poco si ricomincia. Eh, se non tiravo... Eh, lo so, scusa. L'ho smirato tantissimo con l'Orafi. Qui, cosa facciamo? Poi proviamo il centro. Hittato. Uno fatto. Vabbè, io fucio. Uno è qua da me, eh. In fondo è in mezzo. Eh, sta andando verso di noi, Mike. Ok. Bravissimo. Atto. Missione compiuta, scaordinario.